breakers siamo alla fine della serata ma prima di lasciarvi volevamo scambiare due parole con l'ideatore o meglio l'organizzatore di questa serata stiamo bevendo un bellissimo thais alla fine di questo concerto che è stato devastante i double swing sono stati epici iuranova che ve lo dico a fare noi siamo sudati molto sudati molto sudati infatti fa un freddo della madonna però stiamo bevendo del vino del vino con il ghiaccio per rimanere al tema ok siamo qui con danny che è l'organizzatore della serata per il collettivo facciamo pubblicità e di che cosa si tratta danny è ormai un collettivo che ho messo su da qualche anno con il quale organizzato diverse tipologie di eventi e da qualche anno a sta parte ho iniziato a fare anche dei format questo è uno dei format appunto che abbiamo provato a proporre al lupus in fabula ed è un format che sono contentissimo abbia funzionato e però nella realtà della madonna finissata dalla madonna proprio e sto vedendo che anche il riscontro col pubblico anche buono l'obiettivo che ho io col collettivo quello di portare anche realtà come la vostra in friuli che è una regione un po sperduta nell'universo e quindi sarebbe bellissimo portare realtà come la vostra da milano da altre parti d'italia qua nella nostra regione che ha tanto da offrire ecco quindi scrivete a corcriù lo trovate su facebook lo trovate su instagram poi lui è attivissimo su instagram cioè ha fatto un battaglio questa settimana è stato devastante tutti i giorni tutte le ore pubblicare gli eventi bisogna ma perché se non si fa un po di promozione non si fa niente però vedete la promozione aiuta perché questa sera è stata una figata una figata raga cioè il locale era pieno ci siamo divertiti è stato veramente uno spettacolo della madonna quindi se volete venire a suonare qui è un po lunga per noi la milano è stata un po lunga però pensate che per me cioè io che vengo da friulano io comunque un'ora per venire qua comunque mi ci vuole tutto sembra piccolo friuli è molto grande per concludere seguiti break me down seguite core crew e anche i double swindle l'ora nuova tutti seguiti tutti e per quelli che io potevo poteva farlo da solo dovevo intervistarlo io dovevo intervistarlo grazie mille grazie grazie ragazzi continuate a seguirci e alla prossima ci inviva